La Cresce non c'è messa 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 Ma la macedona, mi c'è visto il gruppo carino, la cina è vicina, l'Italia che è lontana, il comunio sta andando sotto in gol, se l'è spesso, il titio telefono chiama Obama, chiama Sarkozy, chiama Merkel carita Angeline, a fissorai l'alta finanza, la media finanza, il fallimento della Lehman Brothers, i Blues Brothers, le agenzie di Ratings, Danike Poo. Se avessi ancora in tasca le mie 200 lire, io comprerei un ghiacciolo e me ne andrei al mare, Se avessi ancora intatta la mia malinconia, non mi accontenterei anche di una bugia. Sì, fratelli, ma la Chiesa che dice, che fa? L'avete parlato con la Ferdinale? Ma si parla di formare la nuova ADC. Scusi, per uscire dall'Italia? Sì, 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 devo uscire immediatamente. L'Eurobondo, l'Eurobondo, spread... L'Eurobondo, la dice una cosa di sorda. Avessi ancora in tasca le mie 200 lire, io comprerei un ghiacciolo e me ne andrei al mare. Se avessi ancora intatta la mia malinconia, non mi accontenterei anche di una bugia. Basta, me ne vado. Non sempre chi si traveste da gigante riesce a reggere il peso dei suoi ornamenti. A presto. 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 A presto.